I socialisti non hanno la pretesa di disegnare la società perfetta del futuro, l'obiettivo per cui lavorano è una società che dia a ognuno la possibilità di realizzare i propri progetti di vita. Non vogliamo seminare illusioni, ma insieme portare speranza. Queste parole sono di Olof Palme, il leader socialista svedese assassinato in strada esattamente 25 anni fa. Parole che credo siano ancora attuali oggi e che possono in qualche modo illuminare e guidare anche la nostra azione politica. Molti sostengono oggi che la politica è sempre uguale a se stessa, che mai nulla cambia. Io non sono d'accordo. Pensate a cos'era Ticino 50 anni fa e riflettete a cosa è oggi. Pensate ad esempio quanti giovani potevano ammire di proseguire gli studi all'università e quanti lo possono fare oggi. Pensate alle case in cui si viveva allora e a quelle in cui si vive oggi. Pensate al sistema sociale, agli ospedali, ma anche alle scuole come sono cambiate. Un viaggio straordinario che ha portato all'edificazione di un cantone moderno con un elevato tenore di vista, una realizzazione cui i socialisti hanno dato un contributo fondamentale. Ma il nostro cantone è oggi confrontato con nuove sfide, nuovi problemi, un nuovo mondo. Comunicazione, commercio, cultura in un contesto di progressiva, costante internazionalizzazione dei rapporti. E il nostro paese appare oggi intimorito, bloccato di fronte ai cambiamenti che si prospettano. Un terreno dove sembra trovare particolare alimento non la politica della speranza e dell'iniziativa, ma quella della paura. Paura di quello che sta attorno, paura degli stranieri soprattutto. Se ne è parlato molto in questi anni con accenti quasi sempre negativi. Stranieri che delinquono, stranieri che portano via il lavoro. Stranieri che assediano culturalmente e economicamente il nostro paese. Noi in mezzo, irrigiditi, lo sguardo fisso concentrato sui confini politici o ideali del nostro cantone da difendere e preservare. Un riflesso condizionato è la percezione a volte di trovarci al centro del mondo. Ma non siamo davvero? Noi possiamo anche considerarci al centro del mondo. E certamente possiamo amare e celebrare la terra in cui viviamo. Non ve nulla di male. Basta rendersi conto, usando le parole di Claudio Magris, che l'amore per il paesaggio che si vede dalla propria finestra è davvero vivo solo se si asca al confronto con il mondo, se si inserisce spontaneamente in una realtà più grande come l'onda nel mare e l'albero nel bosco. Vale anche per il nostro cantone, portatore di valori e di risorse tali per cui davvero non deve temere nulla se non la propria paura. Qualcuno potrebbe obiettare che la paura ha ragione l'essere quando la cronaca ci racconta quotidianamente di violenze, furti e minacce. Ho sentito ancora che negli ultimi giorni il lugarese, rispeggiamente il membresi orto, per stato oggetto di nuova scorribande di bande di larvi. Io sostengo che la sinistra deve confrontarsi con il tema della delinquenza e della sicurezza e che queste preoccupazioni non vanno nell'elettro. Nella mia attività decennale di procuratore pubblico ho toccato con mano l'angoscia, la paura di chi è stato oggetto di un atto di violenza o semplicemente di un furto in casa o di minacce. E chi tra voi o tra noi ha subito atti analoghi sa di cosa sto parlando. Sono eventi che lasciano tracce e durature, spesso indevedì, nella coscienza di una persona. La sicurezza è un elemento costitutivo centrale del patto sociale che unisce i cittadini ed è una delle esigenze fondamentali dell'uomo. Gli inquietuditi dei cittadini va ascoltata e accolta, anche la sinistra deve sapersene fare carico. Riconosce la polizia e magistratura risorse, mezzi e strutture organizzative per svolgere bene il proprio difficile compito e nell'interesse di tutti. Fare in modo che gli spazi pubblici rimandano fruibili a tutti, anche alle donne e ai bambini, è un atto di civiltà. Fare in modo che diminuisca il numero delle donne che ogni anno finiscono in ospedale o pronto soccorso a medicarsi, e sono tra le 100-150 persone ogni anno, perché picchiate dal proprio padre o d'altra persone, è un obiettivo sociale importante. Repressione, certamente, ma anche prevenzione. Una sinistra moderna, attenta a questi problemi, sa di dover operare lungo due divettrici, essere ferma con i criminali ed intransigente con le cause della criminalità. Ed è così, è solo così che potrà opporsi credibilmente a coloro i quali, purtroppo oggi non sono pochi, pensano di usare della sicurezza come di una riete politico, combustibile e buona per ogni iniziativa. È un aspetto importante, forse decisivo per il nostro allenamento sociale e legale, perché noi sappiamo che se si cavalca troppo la paura e troppo poco la speranza, si finisce con di generare fantasmi contro cui, per finire, cozzano buonsenso e ragioni, con conseguenze ci insegna la storia, spesse delle temi. Qualche risaglia l'abbiamo già avuta. Non vogliamo seminare illusioni, ma portare speranza. Ma qual è il posto della speranza quando i soldi a fine mese non bastano perché affitto e cassa malati pesano ed il reddito è basso? Quando il lavoro non c'è o se c'è è precario e mal pagato? I lavoratori sono oggi confrontati con cambiamenti radicali nell'organizzazione della produzione e se qualcosa non è sicuro, questo è proprio il lavoro. Quasi 12.000 persone che cercano di impiego nel canton Ticino. 140.000 lavoratori per gare in tutta la Svizzera. È il lavoratore, il vero eroe di questo nuovo mondo che celebra il rischio, lo spirito di adattamento, l'efficienza, la flessibilità. Eroe perché quando spicca il volo e quasi mai per sua scelta lo fa senza paracadute, tanto meno un paracadute d'oro. E perché diversamente da altri, anche quando lavora, non può permettersi di mettere da parte piccole fortune per i tempi grandi, magari lontano dagli occhi indiscreti dal fisco. Ed è ancora lui spesso a pagare il prezzo in termini di infortuni, perdita dalla salute, ma anche mancanza di prospettiva e sì, anche di speranza. Il Ticino e il tasso di disoccupazione è come sempre tra i più alti in Svizzera, il reddito tra i più bassi. Possiamo, dobbiamo addossare la colpa ai bilaterali, ai lavoratori stranieri, ai frontalieri in particolare? Qualcosa, forse, ma sarebbe miope ed ingiusto non considerare le palesi contraddizioni di chi si vuole oggi al fiere degli interessi della mano d'opera a di tanto nemici colleghi lavoratori stranieri, ma che nulla fa per adottare misure concrete per arginare i fenomeni di dumping salariale e in genere di precarizzazione dello statuto del lavoratore. Ma soprattutto il problema è quello delle misure accompagnatori, dove, bisogna dirlo, non tutto è stato fatto con la necessaria determinazione e velocità. pensiamo ai ritardi, se non al rifiuto della promulgazione di decreti di obbligatorietà generale per i molti contratti collettivi di lavoro, compreso quello per i lavoratori internazionali. Pensiamo alle resistenze nell'adozione delle cosiddette clausole di responsabilità solidale per le imprese che operano il subapparto. E poi ci chiediamo, come arrivano in Ticino le vite straniere ad operare il regime di subapparto? Certamente non vi arrivano da sole, vi sono impresari o magari anche progettisti cinesi che spesso, al posto di perseguire una politica imprenditoriale, preferiscono fare commercianti ottenendo gli appalti e facendo di poi gestire da altri. In ogni caso dobbiamo essere esigenti con merda, con le misure accompagnatorie non si scherza più. Nuove consultazioni popolari sui bilaterali si profilano all'orizzonte, guai se si dovesse spezzare il filo della fiducia. Misure accompagnatorie, controlli, sostegno alle aziende che assumono giovani lavoratori, una politica economica che stimoli imprese che operano in campi e mercati con un futuro, e ce ne sono anche da noi, suscettibili di creare posti di lavoro qualificati, il salario minimo. È questa la politica del lavoro, politica di tutela dei lavoratori. Chi fa politica non può avere la pretesa di disegnare la società perfetta, dicevo all'inizio. Sa riconoscere i limiti della propria azione, deve avere il coraggio dell'incompiuto, essere consapevole di percorrere un breve tratto di strada che forse altri più tanti completeranno. Vede le insufficienze, le iniquità, le perduranti ingiustizie, ma vede anche che dietro le cose così come sono, v'è una promessa, l'esigenza di come le cose dovrebbero essere. È questa promessa, questa esigenza delle cose come dovrebbero essere, la ragione profonda del nostro impegno politico. Non è vero che mai nulla cambia. Insieme possiamo contribuire a costruire un ticino migliore, sicuro di sé e di propri mezzi, senza seminare illusioni, ma coltivando la speranza. Insieme faremo belle cose.